Musica Questo è Matteo Un ragazzo come tanti, a cui piace stare a casa Nella quale ha passato molto tempo Nella stessa casa dove ne ha passate di cotta e di crude Nella stessa casa abitata da tante altre persone Una casa abitata in vari modi e divisi nel tempo Accompagnata da feste e parti estivi E da lavori impegnativi ma divertenti in inverno Una casa aperta a tutti che presenta diverse stanze per tutta l'età La quale funziona è il divertimento e il mettere a proprio agio chi ci entra Insomma se non conosce il tuo oratorio non può non piacerti Ciao! 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 Ciao!